che si dice? che hai trovato? aspetta un po' che è questo? aspetta un po' questo che è? ecco dissi uno di castagno e uno di quercia aspetta ma ce ne sta un altro di quercia? si si è un altro attentissimo ma che è questo? è un altro ma lì sopra c'è un altro vorrei più con cui è staccato come è andato? 15 novembre infatti questo è pure un po' rovinato è un po' rovinato perché poi è staccato ma che è questo posto? e quello che è? aspetta un po' e questo che è? dove lì? dove? è proprio una delle prime cacciate vabbè aspetta se volete vedere i cesti? aspetta un po' lo vedete tutto oh un altro qui eccolo questo 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 è un posto nuovo ormai porca maresca che roba che funghi è un po' quello aspetta scendo un attimo quello con un quadrano attimi di cesti non so se lo devi mangiare questo è l'altro qua dove? lì sotto lì e che è quell'altro? ecco lì ma che è una famiglia una famiglia in terra meno male che avevamo detto se vuoi uscire speriamo che non troviamo più funghi no ricordatelo questo piccoletto ma qui c'è qualcun altro funghi che so si cesti? di chi so si cesti? ma di chi so si cesti? a farti scherzi buona giornata a tutti fungaroli a cani di del lazio sto un po' in affanno perché poi certo la sigaretta su sta pendenza non è al massimo ci aggiorniamo ragazzi buona giornata e buona passeggiata